Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo video è in collaborazione con la mia amica Ilya e per questo mese abbiamo deciso di realizzare due binder della Simple Story con collezioni diverse e colori totalmente diversi. Dato che tutte e due lo dovevamo realizzare abbiamo deciso di farlo come collaborazione quindi quelle che facciamo tutti i mesi tanto per fare qualcosa di diverso. Io in questo caso vado a utilizzare la Botanical Vintage è una collezione che è uscita primavera estate che mi era piaciuta moltissimo avevo comprato tutti i pezzi della collezione per fare diversi lavori però dopo l'avevo dovuto lasciare un po' da parte perché in estate non ero riuscita andar lì dietro e in questo caso io vado ad utilizzare alcune carte del pad 12x12 il pad piccolo che qualcosa mi è avanzato però non è detto che non lo vado comunque ad utilizzare poi più avanti utilizzo gli stickers che sono composti da sei foglietti utilizzo il foglio di stickers 12x12 e ovviamente utilizzo i die cut adesivi e per quanto riguarda invece i die cut normali che sono due versioni diverse quelli li lascio da parte e li vado ad utilizzare quando finisco magari di inserire le fotografie per ogni viaggio perché questo sarà l'album che ho deciso di realizzare appunto per mettere dentro tutti quei ricordi delle gite che facciamo ho iniziato subito partendo dal presupposto di fare quest'album perché comunque avevo già delle cose da inserire e quindi devo solo stampare le fotografie e volevo appunto poter mettere via le cose dato che ho il biglietto del museo da una parte così via quindi ho iniziato diciamo la parte creativa da questo punto di vista e in modo comunque da poterlo appunto utilizzare e man mano che finisco ogni parte vado a completare la decorazione della pagina delle pagine o dei page protector quindi voi vedrete delle decorazioni all'inizio molto semplici io ho scelto appositamente di non creare la mattatura quindi non creare già una situazione in cui vado a stabilire prima la misura della fotografia che poi vado a inserire appunto perché voglio avere la possibilità di inserire qualsiasi tipo di immagine che mi possa poi interessare iniziamo dalla parte della copertina per fare la copertina io ho scelto di utilizzare una delle carte 12x12 di ritagliarla in modo poi da avere lo spazio sufficiente per poter utilizzare una delle cornici perché ecco il bello di questa collezione ed era quello che mi era piaciuto quando l'avevo vista al cia nei filmati di clelia era appunto che avevano introdotto queste bellissime cornici spessorate le cornici hanno vari tipi di misure vari tipi di formati e sono veramente molto belle quindi volevo che comunque ci fosse una cornice ho scelto di utilizzare una di quelle piccole e alla fine ho deciso per questa perché comunque era quella che stava meglio riuscivo a usare la una parte della carta tra le mie preferite e anche appunto a mettere la cornice ho scelto di non mettere la fotografia perché non è che se è un cornici dove sei obbligato a mettere una foto ho scelto di mettere una frase e quindi mi diciamo che ho valutato bene prima che carta usare appunto per riuscire un po a comporre quello che è la mia idea di copertina anche il fatto di queste strisce decorative che mettono all'interno del foglio grande sono veramente molto belle e sono molto comode per la realizzazione e per la rifinitura di questi tipi di binder perché hanno uno stacconetto tra la parte di tessuto e la parte craft che va decorata molto spesso anche nei loro progetti perché comunque per ogni collezione loro realizzano dei progetti che possono essere layout possono essere dei binder o qualsiasi altro progetto e quindi ci sono vari modi con cui rifiniscono questa parte delle volte anche solo con un nastrino io adoro quando c'è la possibilità di utilizzare il questa strisce decorativa questo comunque sorta di washi tape perché mi piace molto delle volte non è possibile utilizzarlo perché magari su delle scritte che stonano un po messo in verticale quindi un po dipende io dopo solitamente per prassi vado a dividere il contenuto perché questo tipo di binder ha già al suo interno dei page protector con vari formati a tre divisori più a delle pagine quindi tipo dashboard quindi colorate e altre un po per fare una sorta di diario se vogliamo comunque scrivere le annotazioni scrivere dei ricordi scrivere delle frasi danno anche questa possibilità diciamo che sono album multifunzionali dove un po possiamo sbizzarrirci quindi la simple story delle volte da dei progetti anche lì non si è obbligato a seguirli e vengono già venduti con il kit compreso magari anche con l'abbinamento del colore del binder che ha scelto la simple story e anche lì difficilmente io lo seguo cioè non anzi forse non l'ho mai seguito se non il primo che ho fatto estivo dell'anno scorso di solito dato che comunque ormai mi sono abituata prendo gli elementi che mi interessano di più li vado a decorare in questo caso appunto come vi ho già detto lascio tutto un po semplice e alla fine andremo comunque a definire meglio tutte le pagine però facendo così tenendo comunque una decorazione fatta in questo modo mi permette poi di andare a scegliere se mettere due fotografie piccole o una fotografia grande se lasciarle in verticale in orizzontale non volevo precludermi nessuna possibilità per decorare le vai vari page protector ho comunque inserito le tessere prese sia dal palo 12x12 che da quello 6x8 queste tessere diciamo che sono molto carine perché oltre a essere decorative diventano da un lato decorative perché vedete ha già una frase dall'altro lato avete la mattatura già per la vostra fotografia qualora fosse più piccola del formato del page protector che voi state andando ad utilizzare in questo caso io non ho page protector aggiuntivi anche perché sono sold out e quindi era impossibile acquistarli però comunque di solito li vendono anche separatamente se potete scegliere la busta mista oppure potete scegliere la tipologia che mi interessa di più in base un po anche a che formato di foto andate a stampare io di solito stampo sempre sul foglio a 4 quindi vado a stampare in base all'immagine e alla misura che mi interessa utilizzare ci sono alcune immagini che stanno bene anche piccole altre dove preferisco lasciarle magari 10x15 sia che sia verticale o orizzontale e quindi volevo appunto avere questa possibilità di andarla ad inserire e quindi devo dire che questo modo l'ho trovato molto comodo poi ad esempio io alla fine ho attaccato al binder washi tape e già il nastro biadesivo in modo di averli pronti all'uso quando devo andare iniziare a decorarlo devo solo comprare la scatola e decorarla in questo caso voglio decorarla a meno che non sono fortunata e non la trovo come voglio io ma ad essere i dubbi penso di decorarla con le carte di questa collezione perché comunque sono veramente carine anche avere la scatola esterna mi piacerebbe e quindi devo andare ancora a vedere per il momento iniziamo con il binder iniziamo un po alla volta a riempirlo poi quando sarà del tutto completo ve lo mostro anche se sicuramente per questo essendo che sono le foto della gita ci vorrà un attimino di tempo insomma come vedete appunto ho lasciato tranne dove sono andata a mettere dentro le tesserine con delle frasi indietro molte decorazioni mi avanzeranno molte cose perché le andrò poi a mettere dopo man mano che finisco ogni sezione vado comunque a finire la decorazione e quindi mi sono tenuta da parte appunto anche una scatolina con tutte le cose diciamo quello che mi premeva di più era avere a portata di mano il washi tape se no mi dimentico di usarlo e il biadesivo perché ho intenzione appunto di tenerlo comunque giù in modo che quando magari non so acquisto una cartolina se siamo andati a vedere un museo posso già andarla ad inserire senza dover aspettare di andare su andare a tirar fuori l'album voglio fare una cosa un po' così anche perché vabbè sono anche un po' più vera quindi e come vedete comunque l'importante è decorare un po' anche a secondo di come piace quindi loro danno dei progetti che non si è obbligato ad usare potete utilizzare anche anche carte che non sono della simple story con questi binder non avete proprio dei veri vincoli potete creare delle tasche le tasche possono servirvi per gli adesivi possono servirvi per mettere cartoline foto potete creare delle busse dove andare magari inserire anche gli scontrini se volete tenerli io ho creato alcune tasche però come vi ho detto non ci sono altri page protector quindi ho usato tutto quello che c'era all'interno questo mi permette di scegliere se andare ad acquistare altri page protector oppure andare a ricreare sia con le carte della collezione che anche con delle carte neutre delle pagine supplementari fino a che ovviamente c'è la tenuta dell'album devo dire che comunque mediamente si riescono a mettere 60 fotografie e per quello che lo devo utilizzare io sicuramente mi dura molto di più di un anno presumo poi non si sa mai non hanno cosa può succedere e dove si può decidere di andare l'idea comunque quella è lo stesso motivo per cui non ho messo i tab alle sezioni perché comunque i divisori mi piacciono per magari anche definire la linea temporale e quindi quelli li andrò poi a mettere quando decido questa sezione terminata e i tab all'inizio si trovavano nei fogli 12x12 adesso si trovano nei fogliettini piccolini però ce ne sono diverse l'unica cosa che un po mi dispiace era che una volta c'erano i tab proprio della forma di questo tipologia di divisorio quindi era carino perché lo si poteva abbinare però va bene si riesce lo stesso quindi diciamo che io ho utilizzato le parti principali che mi piacevano della collezione tutto il resto lo metto alla fine quindi vedrete che utilizzeremo un po tutto anche perché voglio utilizzare anche i vari pezzi dei fiorellini però appunto devo aspettare anche se una parte in questi giorni penso di riuscire a riempirla e vediamo comunque quando sarà terminato ve lo mostrerò anche con la sua scatola la stessa cosa vale per quello di quest'estate che ho già terminato l'album devo solo fare la scatola e quello ve lo posso dopo già mostrare perché comunque sono carini secondo me è un modo molto veloce e pratico perché non si ha bisogno di avere timbri di avere fustelle ci basta comprare tutto il set del materiale e chiunque può creare l'album basta avere delle forbici una taglierina del nastro della colla e quindi niente questo è il mio album finito fatemi sapere cosa ne pensate andate a vedere anche il video di iglia che comunque vi lascio ovviamente come tutti i mesi giù nell'info box quindi mi raccomando vedete anche il suo e dopo quando sarà terminato vi mostrerò come è il risultato finale quindi con la fine di tutte le decorazioni che poi comunque mi sono avanzate io vi saluto ciao a tutti e al prossimo video ciao ciao ciao